Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovissimo video con Super G che sono sempre io e oggi siamo qui con il bimbi nuovamente a parlare appunto di qualche informazione, errore e cose da sapere sia prima di acquistare il bimbi che una volta acquistato e diciamo quando si mette in funzione per le prime volte quindi iniziamo subito prima di iniziare però mi raccomando attivate la campanellina, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e anche un like mi raccomando supportatemi così possiamo finalmente crescere insieme come vi ho detto voglio parlare degli errori comuni che si possano pensare sul bimbi in primi stra tutti una cosa da sapere prima di acquistare il bimbi è un mito da sfatare è che il bimbi cucina se voi volete farlo quindi il bimbi non vi sostituisce al 100% in cucina, è un grande alleato vi può dare una grandissima mano, può essere di grandissimo aiuto ma alla base ci deve essere la vostra voglia di cucinare, la vostra voglia di sperimentare la vostra voglia di fare ricette e di cucinare in cucina, di mettervi in cucina e preparare qualcosa quindi sfatiamo questo mito che il bimbi, se acquistate il bimbi non è più necessario fare nulla non cucinare, non fare nulla, non avere voglia di preparare la cena o il pranzo quindi sfatiamo questo mito, il bimbi può aiutare ma non vi sostituisce in cucina mi raccomando è importante da sapere, se questa cosa non vi è chiara cercate qualche informazione in più, scrivetemi qui sotto nei commenti se volete sapere qualche informazione in più perché è importante non sprecare appunto soldi se poi sapete che è un elettrodomestico che mettete lì sul piano cucina e aspettate che magicamente vi prepari qualcosa per cena una volta invece acquistato il bimbi, quindi superpassato il problema di capire se si ha voglia di cucinare oppure no, se il bimbi può esservi d'aiuto oppure no, è quello di non leggere le istruzioni purtroppo spesso capita che l'incaricata vi porti il bimbi, vi spieghi un attimo come funziona e poi in automatico voi partite a fare le vostre ricette e non leggete un minimo di istruzioni che sono necessarie per poter utilizzare un nuovo elettrodomestico quindi è fondamentale prendere in mano, prendervi qualche, non lo so, un qualche minuto, un'oretta per capire effettivamente tutte le istruzioni necessarie da conoscere prima di andare a utilizzare questo elettrodomestico, per esempio le cotture, il coperchio come utilizzarlo, quando mettere il misurino quando mettere il coperchio paraschizzi, quando utilizzare il cestino o cestello, chiamiamolo come vogliamo come avvitare, come ganciare per bene il gruppo lame, è fondamentale leggere le istruzioni base prima di andare a utilizzare un qualunque elettrodomestico e di conseguenza anche il bimbi che al suo interno ne raccoglie quasi una ventina. Un altro errore che viene comunemente fatto e spesso capita di vederlo è quello di andare a sovraccaricare il nostro boccale del bimbi, purtroppo è una cosa che non bisogna fare perché si rischia di danneggiare gravemente e seriamente la base del bimbi perché se fuoriesce del liquido e quindi si va oltre la tacca massima consigliata di utilizzo il liquido o il contenuto che avete messo all'interno del boccale fuoriesce può andare a rovinare tutti quelli che sono i contatti della base del bimbi e quindi rovinarlo per sempre o comunque farvi spendere tanti soldi e andare poi a sistemarlo. È molto importante poi rispettare le velocità soprattutto per quanto riguarda le ricette cookie duo o le ricette che si trovano online nei ricettari, nei giornali che vi arrivano del bimbi e rispettare le velocità consigliate. Questo perché? Perché il bimbi ha uno studio dietro le sue ricette quindi se vi dice di utilizzare la velocità 4 per una certa tipologia di preparazione è perché a velocità più alte il composto quindi gli ingredienti potrebbero andare a rovinarsi nel senso perdere le loro proprietà nutritive, potrebbe rovinarsi il bimbi in sé perché se per esempio andiamo a utilizzare la farfalla a una velocità superiore a 4 potremmo andare a frullarla. Purtroppo è successo mi avete scritto un sacco di commenti a riguardo di questa cosa quindi mi raccomando ragazzi rispettate sempre le velocità che vengono indicate nelle ricette del bimbi. Un altro errore che comunemente si fa con il bimbi quindi siamo arrivati al quinto di oggi è che purtroppo spesso capita che finita una preparazione non si lavi subito il boccale. Questo è un errore molto molto grave perché il nostro boccale ok che è in acciaio ma con alimenti come il pomodoro, il limone, cose particolarmente acide, il curry, può andare a macchiare il nostro bimbi quindi il boccale e poi è molto difficile pulirlo o far andare via questo colore un po' grigiastro scuro quindi è fondamentale terminata una preparazione prendere il composto che abbiamo all'interno del boccale trasferirlo in una ciotola in una risottiera quello che vogliamo utilizzare e lavare comunque mettere a bagno immediatamente il boccale oppure fare appunto l'autopulizia che il bimbi tm6 propone per avere sempre un boccale pulito e luminoso. E voi conoscevate questi errori comuni che sempre più spesso vengono effettuati con il bimbi? Fammi sapere qui sotto nei commenti se hai altre informazioni che vuoi sapere. Ricordati di iscriverti al canale e lasciare un mi piace e anche un commento. Ciao!